Per la prima volta riprendiamo liberamente i soldati russi mascherati per evitare rappresaglie che usano un blindato sempre in linea su tutti i fronti. Questo alle mie spalle è un blindato lince fabbricato in Russia, lo chiamano RIS e viene utilizzato dai soldati di Mosca che presidiano la base da dove partono i caccia che martellano il califo. Ma questo blindato è lo stesso utilizzato dai nostri soldati italiani nelle missioni all'estero, in Afghanistan come in Iraq e in Libano. Il lince viene fabbricato in Russia, su licenza dell'Iveco. In Afghanistan i talebani lo chiamavano mostro e ha salvato la vita a molti soldati italiani saltati in aria sulle trappole esplosive. In Siria viene utilizzato spesso dagli altri ufficiali russi. Un pezzetto d'Italia in prima linea contro il califo.